Ciao a tutti ragazzi, sono Gobri Gamer e oggi siamo ritornati qui in un voissimo video, non fate caso alla mia bellissima, un bellissimo sfondo del telefono, ma non siamo di certo qui a vedere le mie immagini. Infatti ragazzi, dopo un po' togli se siamo ritornati, ecco qua, subito su Brawl Stars. E poi ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, comunque ho disattivato questi robi qua così mi sentite meglio. Però ragazzi è un po' strano giocare senza questi, quindi vabbè. Io ragazzi partirei in questa bellissima mappetta qua con Edgar perché non è, non è ben, cioè non è Leon, in questa mappa non ci sta bene. E quindi praticamente è una mappa di Isle dove facciamo tutto quello che vogliamo. BBFK e ci scommetto che si muoio subito, da solo. Niente raga. Uh, attenzione, oh ok. Quanti popor up? Oddio. No vabbè se l'ho ucciso. Oddio. No, vai BBB. Vai. Vabbè come primo round ci poteva stare anche perché sono un po' scarso, sono appena iniziato a giocare. Però noi ora ci riproveremo e vinceremo di sicuro. Guardate tutto cambiato, gli fanno vedere i brawler. Ti dà pure un tempo di preparazione. Oh questo è il frank di prima, incredibile. Ok ragazzi c'è una mischia incredibile. Che abbiamo preso un botto di power up. La Shelly no, la Shelly no, proprio. Ok vai, uccide. Ok raga abbiamo un botto di power up. Molto bene. Molto molto bene. Proviamo ad andare qua, vediamo. Ma non mi freghi eh scemo, 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 scemo. Ok, grande. No, c'è l'altro scemo, c'è l'altro scemo. Ok, meno male è andato via, meno male. Ok raga, scontro finale non so che fare. Vai andiamo, 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 andiamo. Dai, 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 mori, muori, muori, per favore, fai la brawler, grandi, ah no, ma non... Ce la scegli, è vero. Mamma mia. Guardate ragazzi, siamo rimasti con il nostro amico Frank. Eccolo qui, ci vogliamo molto bene e vinceremo. Ok, ok, ha bisogno di aiuto, attenzione, un... Oddio, dove sono? Vai, 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 muori, muori, muori. No raga, sono morto. No, siamo morti entrambi. Vabbè, comunque l'importante è che è morto anche quello lì. Stiamo ancora con il nostro carissimo amico Franklin. Lì lo chiamo Frank perché mi confondo con GTA, però niente, non è un problema. Vai, stavolta vinceremo, vai, vieni amico, amico. Uuuuh, attenzione, attenzione, la scegli... Ok, la scegli va via, meno male che se no... Raga, io vi giuro non commento sulla partita di prima. Adesso però qualcosa mi dice che ce la faremo, dai. Cioè, siamo morti insieme, dai. Ok, attenzione, mortis. Muori. Oddio, che strage incredibile. Oh! Ve l'avevo detto io che ce la facevamo, raga. Quanti power up. Non è che si nascondono qui, no? Sono di qui. Sì, eccola. Ma vaffanbego. Ok, ragazzi, ma muori, ma cosa vuoi fare? Ma muori. Guardate, abbiamo pure fatto la missione, però non ci arrendiamo. Giochiamo con il nostro Frank, no! E niente, adesso è andato il nostro amico, però ora siamo con un giocatore molto più forte. Siamo con Buzz. Vai, vai, prendiamo tutti che sono nostri. Via, scapponchio, va. Eh, ma il mio amico dove è andato? Ah, ma sei qui, vieni, bro, vieni, bro, bro, vieni, bro. Cioè, cosa scappi? Uh, sì, 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 sì. Cosa è successo? Ok, ce l'abbiamo. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Qua non c'è nessuno e mi metto io. Ok, raga, scontro finale. È un miracolo se siamo ancora vivi. Dove siete? Eccoli, raga, sono là sopra. Vai, c'è solo Frank. E niente, ho preso, ho foste della Woolsey, però vabbè. Ok, raga, adesso invece siamo con una Shelly, ok, va bene. Prendiamo queste casse e anche lei è frica. Non è vero, si è ripresa, che casino! No. Vabbè, ragazzi, comunque abbiamo un botto di power-up. No, no, la Shelly, la Shelly. Ah, no, non dai, perché vai di qua? Sono morto. Ok, raga, bene. Oddio, attenzione. Ok, bene, bene. Scontro finale, eccomi qua, ragazzi. Attenzione, Edgar. Mamma mia! Ora però, raga, mi sono giusto un po' scocciato di giocare in questa mappa. Quindi, faremo questo torneo dove, guardate qua, vite infinite per ricevere questi carinissimi robie. Quindi, io, ragazzi, per questo scontro metto Penny che è super utile in questa mappa. Vediamo come finirà la partita. Comunque, questa skin non mi ricordo neanche di averla scelta. Non so, non chiedetemi da quando ce l'ho. Guarda, ragazzi, vogliono cercare di prendermi. Ma morite. Oh, dai che potevo prenderne un... Dai, almeno Nita, almeno Nita. Non posso sbagliare. Ok, Nita morta. Meno male. Adesso c'è quella lì, che c'ho un po' di paura. È morto Dynamike. Però il primo non mi tradirà. Dico... Aia! Ok, c'è solo il Dynamike. Meno male, raga, meno male. E questo round ce lo portiamo a casa. Abbiamo massacrato il nostro carinissimo Dynamike Godo. E ora vedremo cosa succederà in questo carinissimo round. Allora, partiamo subito con il primo che muore. No, non è vero, meno male. Però ora sì. Ok, è morta una, Godo. No, però c'è l'orso. Aiutami, Dynamike. Aiutami. Cosa vuoi fare, Dynamike? No, sono morto. No, non ci credo, raga. Come sono sopravvissuto, non me lo chiedete. Piccolo vecchio. Anche ora muore. Mamma mia! Momenti sapienti... No, salienti. Ok, è il primo che fa tutte le provate e non ci interessa. Bene, ragazzi, come premo ci danno questi due cittadini. 100 bling utilissimi. Ora invece siamo con queste persone brutte. Bene, bene. Andiamo, ragazzi. Ce la possiamo fare. Tranquillo, bro. Vai, fang mo... No, no, dai, almeno il fang. Ok, il fang morto. Ok, danneggiato. C'è qualcuno lì? Sì, che c'è qualcuno. No, ragazzi, stanno scappando. Ok, ne manca solo uno, però è morto Gray. Cavolo. Ok, lì. Attenzione. Vai, uccidilo, uccidilo. Vai, morto, 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 morto! Ok, ragazzi, rieccoci qua nel secondo round. Secondo me verremo massacrati in questo. Non lo so, è un brutto presentimento. Attenzione, c'è il Gray che va subito ad attaccare. Ok, però stiamo sopravvivendo. Ok, dai che more pure sto fang. Dai, 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 dai. E' grande, raga. Oh, attenzione. Ok, ragazzi. Siamo dei pro player. Altri 200 bling. Ok, raga. Ora siamo in raffagemme. Un bel Byron. Io direi che ci sta. Dai, raga. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok, attenzione. Vai, vai. Ci diamo quelli lì. Però c'è il Frank maledetto. Muori, gelindo. Fai schifo. Oh, però mi sono curato. Mamma mia. Prendiamo le gemme, ragazzi. Vai, è morto il gelindo. Forse no, non è vero. L'ho acidato, però. Vai, che sta morendo. Grandi. Ok, io intanto prendo le gemme. Ragazzi, vi ricordo che stasera c'è... Inter Juve, attenzione. No, 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 no. Preso. Però mi devo curare, raga. Loro sono sei gemme, cavolo. Lo sapevo, lo sapevo. Maledetto. Muori, muori. Mi sa che questo round l'hanno completamente vinto loro. Niente, raga, hanno vinto. Tic, togliti che devo sparare. Dai, dai, aiutatemi, è lì, è lì, è lì, è lì. E niente, questo round è andato, però abbiamo altre 300 miliardi di vite. Ok, ragazzi, siamo un po' messi meglio perché abbiamo dei super brawler. Togliti, Piper. Ok, massacrata la Tara. C'è uno scioglione nei ciospugli, un calabrese. Morite. Togliti, Piper! Che moriamo! Dopo, raga, mettiamo Edgar. Ma cosa volete che non ho gemme? Raga. Raga, non chiedetemi nulla. Ho fatto un salvataggio incredibile. No, raga, adesso arrivano, arrivano. E Corvo, proteggici. No, no, non possiamo perdere. Ok, raga. Dai, siamo messi bene, siamo messi bene. Dai, una volta. Ok, ragazzi, mamma mia. Ok, raga, però questa volta ho voluto mettere Diamond perché mi sono ricordato che sono veramente forte. Quello di no, mi sto vantando. Attenzione. Ok, gente lì. No, non l'ho presa, però fa niente. Attenzione al Frank. Ok, danneggio. Oh, no. Ma muori. In realtà non sono forte. Con lui. Ok, prendiamo sta gemma. Attenzione al puffo. Il puffo. Che è morto Frank. Oh, ma oggi non ne prendo uno. No, raga, è morto Gelindo. Guarda che questo qua lo vinco loro. Ho paura che prendano le gemme. No, dai. Un buon momento, per favore. Vai, danneggiati. Mamma mia, un bombone. Attenzione. Vai, morto pure lui. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Bene, ragazzi. Procediamo. Abbiamo completato il nostro torneo. La sfida. Grazie mille. Grazie, grazie. E riteriamo il nostro incredibile premio. 200 bling. Ma anche il nostro graffito. Bene, ragazzi. Ok, ragazzi. Io ora direi per concludere questo bellissimo video ci facciamo un paio di singolo. Per vedere se magari potremmo essere fortunati abbiamo un pro player lì che ci appanzierà sicuro. Mamma mia sto colt. Non sei un po' se un bot, scemo. Ah no, ma non è un colt. No, raga, mi hanno chiuso, eh. Io ve lo dico che non mi manca molta vita. Qua c'è il veleno. Guarda che bella vita. Almeno questa cassa me la lasciate, per favore. Sono chiuso. Raga, sono chiuso. Chi è che spara da mezz'ora? Ok, raga, l'abbiamo ucciso. Godo. No, 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 no. Dai, lasciami questo. Basta. Ok, abbiamo preso l'hamburger che ci cura, raga. Bene. La broca è tutta tranquilla là che si prende i power up. Non voglio parlare. No, si è rubati. No, 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 non ti volevo dare fastidio. Tornatene a casa tua. Cioè, in realtà te lo volevo dare. Dai, muori. E' stato così easy uccidere. Vai, Semino, ti do una mano. Uccidilo. Vai, bro, ti lascio la win. Come, Leon? Ma è Giulio. Vai, lasciamo la win. Scemo. Buongiorno. Grazie a tutti